Preside, la visita di Sua Eccellenza il Vescovo impreziosisce questa giornata così importante? Impreziosisce e ci inorgoglisce perché non è facile avere una persona così soprattutto disponibile ma io direi anche così portata a dialogare con i bambini perché questo incontro ci ha dato diversi insegnamenti soprattutto dal punto di vista della comunicazione pur essendo una persona di cultura e quindi una persona sicuramente dotata di un linguaggio tecnico adeguato anche a livello universitario si è saputo adattare veramente con termini precisi al contesto in cui si è trovato quindi io lo ringrazio vivamente per questo è riuscito a coinvolgere l'intera scuola nella sua azione in questo caso fatta con un discorso sulla misericordia e siamo riusciti così a migliorare chiaramente il concetto di misericordia e soprattutto a capire che andare incontro al prossimo lo dobbiamo sentire quasi come un dovere soprattutto se suggerito dal cuore. Eccellenza il dialogo con i bambini è un dialogo privilegiato perché a loro veramente si può insegnare molto ma sono anche molti gli insegnamenti che invece provengono da loro sono i nostri insegnanti se noi riuscissimo a capire che la loro presenza nella nostra vita è una presenza importante di spinta per maturazioni a livello relazionale sempre più vere perché man mano che si cresce purtroppo andiamo perdendo quella spontaneità che dovrebbe invece essere il perno delle nostre relazioni questo noi lo riscontriamo proprio nell'insegnamento dei bambini soprattutto quelli dell'infanzia poco fa dicevamo con il preside come loro riescono a reagire in maniera così semplice come ho già detto spontanea anche a certe reazioni a certe riflessioni che a volte hanno anche davvero una impegnative perché richiedono una riflessione molto seria come la questione della disoccupazione oppure i drammi che vive la società drammi difficili, drammi assurdi a volte di droghe o di dipendenze e tutto questo i ragazzi riescono, soprattutto i bambini riescono ad evidenziarlo perché vivono interagendo con il mondo in maniera autentica, sincera per quello che effettivamente essi sono